La delegazione pentastellata di Palazzo San Giorgio ha denunciato gravi omissioni commesse dall'amministrazione Battista, soprattutto in materia di edilizia scolastica rimbalzata alle cronache negli ultimi giorni a causa della mozione relativa alla vendita dello stabile di Via D'Amato, discussa durante il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio previsionale 2016. Per i Cinque Stelle questa scelta accelerebbe interessi privati, data la presenza di un enorme capannone nella zona, ma tante altre sarebbero state le cose nascoste alla minoranza della stessa civica del capoluogo di Regione. Purtroppo sì, l'amministrazione mente sapendo di mentire. L'attività del Consigliere Comunale, chiunque esso sia, è un'attività di sindacato ispettivo a cui l'amministrazione ha il dovere assoluto di rispondere con la verità e senza alcuna omissione di atti. Purtroppo è avvenuto che noi abbiamo chiesto all'amministrazione cosa ne sapesse circa un'ispezione fatta dall'ASREM presso la scuola di via Roma della Enrico Dovidio e l'amministrazione ha negato di essere a conoscenza dell'ispezione. Abbiamo invece scoperto da una istanza di accesso agli atti che l'amministrazione era perfettamente a conoscenza, tant'è che il sindaco ha avuto un incontro con i responsabili dell'ASREM e lo stesso Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM con raccomandata, con ricevuta di ritorno, ha inviato l'esito dell'ispezione all'amministrazione. Per cui questo fatto è gravissimo e ovviamente valuteremo tutte le riserve di autorità competenti perché non si può negare ad un consigliere comunale, così come tutti i cittadini ma ancor più ai consiglieri comunali, nell'esercizio del proprio mandato, l'accesso agli atti. La situazione dell'edilizia scolastica è stata riportata a galla a causa dello sciame sismico dell'inverno scorso, ma rimane ancora irrisolta. Nell'attesa della ricostruzione di alcuni presidi scolastici nuovi, sarebbe stato proposto l'affitto di istituti privati o la costruzione di modelli prefabbricati, ma con dati alla mano i 5 Stelle hanno evidenziato che l'amministrazione Battista solo recentemente avrebbe aperto le buste per il bando esplorativo di privati. Se ne parla dunque da tanto, ma non è ancora stato deciso, nulla di certo. L'amministrazione più di una volta ci ha detto di non creare allarmismo, noi non vogliamo creare allarmismo ma vogliamo dire la verità a differenza loro. Ci sono diverse scuole, a questo punto sicuramente quella di via Crispi, sicuramente quella di via D'Amato, visto l'intenzione di vendere quell'edificio, ma vista anche questa novità del documento ASRE, probabilmente anche quelli di via Roma, che a questo punto mettono in discussione tutto e ci sono diversi genitori che vogliono sapere, vorrebbero sapere che fine faranno i loro figli a settembre. Il rischio sarebbe un sovraffollamento di alcune scuole a dispetto di altre, che comporterebbe sicuramente l'affaticamento del personale e dei docenti.